Simone Guida La situazione è sempre quella comunque di puntare al massimo e cercare di giocare il più possibile e spero di ritagliarmi un buono spazio in questa squadra e so che posso crescere perché con questi ultimi due allenamenti ho avuto la fortuna di allenarmi con questa squadra, ho conosciuto il gruppo e so che posso migliorare molto da questo punto di vista. Papacisco ti ha detto qualcosa, ti ha dato dei consigli su Sanremo e sulla Sanremese? Beh, mi ha detto comunque che è una grandissima società, molto seria e professionale, io comunque già conoscevo pur essendo piccolo la città e la società ma comunque dipende tutto da me, non serve i consigli di mio padre che comunque mi sta sempre dietro e il coraggio.